che fai? mi assembli un video? ci penso dopo ad assemblare i video di testi senza senso buongiorno a tutti, ciao! bentrovati, bentornati, cambiamo sfondo, mettiamo qualche cosa di carino di così, di avrò raboreale, di cellulare, di montano, di un occhio, un occhio mettiamo, 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 dai mettiamo una roba così, una home studio, una postazione no fa schifo, volevo fare la tecnologica ma fa schifo e proprie mettiamo come sfondo questo, questa roba qua, sono molti palazzi geometrici da matti questo qua, questo qua, carote incinta, libretto netto, la miseria, sei impazzito oveglile aumentare lo, allora facciamo la solita roba, cioè la solita roba, facciamo questa, questa roba che faccio recentemente che è, entro dieci titoli dobbiamo scegliere quello giusto, quindi uno, ovegli, partiamo da qua però, partiamo da qua, baro un attimo oveglile aumentare lo, o no, dirigere amaro se, no, edificante le magnifico il, no, nocciola il dove, no, cinque, presentare il ribelle tardi, no, sei, laconico il, no, aiuto, sette, nobile lolenza, otto, pizzicante pensare dove lo, dai, lanciare nostra, se il castagno oscuro molto, questo ci tocca, il decimo, se il castagno oscuro molto, vabbè, generiamo il testo, come lo facciamo questo giro? Questo giro lo facciamo solo con frasi sensate e vediamo, cielo così instabile, è tardi ormai, ti ho mandato un, non sappiamo niente, ricuerdo ora, non giocherò, non, sono fatti come te, se il castagno oscuro molto, io l'ho superato ormai, it's true, I always, può servire alla bisogna, then we all got lucked, no, ancora dai, dirmi niente, se il castagno oscuro molto, prenderai mai, non sarai mai per quello che mi dai, memorie senza età, un po' perché, sempre di me, se il castagno oscuro molto, se il castagno oscuro molto, mi piace, già molto di più, respingere chi non mi, ogni ferita è un, preachers were, all, no, niente in inglese, sto giro, che è allora precisa, ogni ferita è un, i, i, ah no, I'm, sono già, ogni ferita è un, mettiamo la roba che c'entra, ogni ferita è un, è un fischia ed accecanel, ogni ferita è un, tutto intorno, è un qualche letto, ogni ferita è un, è un corteo di festose, ferma e scorde, kiss, ciao, anche se non piange, perché crederò, in un momento, tante soddisfazioni, la globalizzazione, tante soddisfazione è preso dal pezzo, la globalizzazione di Checco Zalone, che sempre mi offre eccezionali soddisfazioni, ne aggiungiamo ancora un'altra, e a volte sono blu, se il scrittrice è molto, mamma mia che brutta cosa, scegliamo una fase, come sei tu? è facilissima, questa atmosferosa, vediamo dove va proviamola, proviamola new entry questa, vado dimmi niente, se il castagno oscuro molto prenderai mai, non sarai mai per quello che mi dai, memoria senza età un po' perché è sempre in me se il castagno oscuro molto se il castagno oscuro molto spingere chi non mi ogni ferita è un corteo di festose perché crederò in un momento tante soddisfazioni a me a volte sono blu sei scrittrice molto se il castagno oscuro molto spingere chi non mi ogni ferita è un corteo di festose perché crederò perché crederò in un momento tanto soddisfazione a volte sono blu sei scrittrice molto sei scrittrice molto 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 tutto Grazie a tutti.